Francesco Maragno, oggi la città di Montesilvano si lega con questo gemellaggio alla città di Gradisca. È un momento importante anche per rinsaldare il legame con una terra che è a noi molto vicina, non solo dal punto di vista geografico. Sì, oggi è un giorno importante per Montesilvano perché creiamo le basi affinché Gradisca e Montesilvano diventino ancora più vicine. Lo facciamo stipulando questo patto di gemellaggio che ha come finalità principale quella di incrementare, sviluppare, aggiornare anche i rapporti commerciali, i rapporti culturali e i rapporti turistici. La Bosnia è un paese, Gradisca in particolare, che sta proprio alle porte dell'Europa. Vogliamo con loro creare le basi affinché le nostre imprese e i nostri cittadini siano più vicini e soprattutto possano godere dei vantaggi che questo gemellaggio intende realizzare. Come si è arrivati a questo gemellaggio, a questo approccio? Devo dire che l'idea è venuta dalla professoressa Stefka Schmitran che è nata a Gradisca e vive qui da sempre e ci ha fatto questo collegamento felice, fortunato. Noi desideriamo non solo nel campo dell'economia aprire una porta verso l'Oriente, ma anche collegare e introdurre un nuovo pensiero sulla gioventù da una parte e dall'altra, quindi di Montesilvano e di Gradisca, aprire ai giovani di fare una collaborazione e un incontro. Un'ultima battuta, cosa conosce di Montesilvano? La prima impressione è questa organizzazione, alberghi meravigliosi, le spiagge altrettanto, arrosticini che naturalmente hanno provato, arrosticini abruzzesi.